Sul tema delle pensioni, che l'ultima volta che furono adeguate le pensioni minime furono portate a un milione di lire, se si ricorda, col governo Berlusconi, che sono diventati 520 euro. Poi è arrivato l'euro ed è evidente ormai che, così come hanno perso potere da tutti, quei 520 euro non sono più sufficienti per una pensione dignitosa. Quindi dobbiamo con la maggioranza, ma so che ne stiamo discutendo e mi auguro che sia già possibile nella legge di stabilità, cercare di elevare quelle pensioni minime, questo mi sembra cosa. Poi Tramontano non abbia sempre il pallino di Alfano, facciamo le cose seriamente e cerchiamo di impegnarci tutti perché le cose possono cambiare. Non è un pallino, è una notizia di oggi. No, ma lo dico per lei. No, no, è una notizia. Allora, vi faccio vedere un servizio. Mi scusi, Tramontano, il fatto che lei dovrebbe essere d'accordo sulla mia legge che tutti i centri sociali ogni volta vengono a contestare, perché io nell'articolo 5 della mia legge ho detto che le case abusive non si occupano, perché se uno occupa una casa abusiva non ha diritto all'allacciamento della luce, del gas e dell'acqua. E occupare una casa vuol dire togliere il diritto a un altro, così come il diritto alla proprietà va sempre stabilito. Io quando ho avuto questa responsabilità l'ho giocata. Poi ognuno ne risponde di quel che fa.